Uomini e donne Gossip Soleil Sorge e Marco Cartasegna di Uomini e Donne, la dedica dell'ex corteggiatrice. Soleil Sorge e Marco Cartasegna, rispettivamente ex corteggiatrice ed ex tronista di Uomini e Donne, stanno insieme da un po' di tempo. Dopo aver lasciato Luca Onestini, con il quale era uscita dal programma di Maria De Filippi, la Sorge ha ripreso la conoscenza con Cartasegna. La loro conoscenza, infatti, è iniziata nello studio televisivo ma, alla fine, Soleil ha deciso di corteggiare Luca e, da parte sua, Marco ha conosciuto altre ragazze per poi scegliere Federica Beninca. Dalle varie foto e storie pubblicate su Instagram emerge che la coppia Sorge e Cartasegna sia molto affiatata e l'ex corteggiatrice sembra aver voltato pagina immediatamente. Non sappiamo con certezza se i due convivono o meno, certo è che che sono quasi sempre insieme. Ogni loro momento insieme, dalle colazioni alle cene, è pubblicato sul social. . Anche oggi la stessa Soleil ha creato una Instagram Story con una foto di lei e Marco insieme, alla quale ha aggiunto un dedica particolare. La ragazza ha scritto, Devi fare ciò che ti fa stare bene, con un collegamento alla canzone di Caparezza dal titolo Ti fa stare bene. La bella bionda avrà trovato la felicità? Luca Onestini non la faceva stare bene? Questa è la domanda più importante la quale, già in altre occasioni, Soleil aveva dichiarato che tra lei e Luca non era tutto rose e fiori. La relazione, stando alle parole della ragazza, era abbastanza complicata. Quando Onestini è entrato nella casa del grande fratello Vi, probabilmente Soleil non ha sentito la sua mancanza e, anzi, ha potuto riflettere sulla loro relazione. La storia d'amore tra Soleil e Marco di Uomini e Donne. Soleil Sorghe e Marco Cartasegna si sono conosciuti a Uomini e Donne ma la loro relazione è iniziata fuori dal programma. Tutto è partito da un semplice passaggio in macchina offerto da Cartasegna all'ex corteggiatrice in occasione della Milano Fashion Week. Quel momento è stato accompagnato da alcune foto e così c'è stato un incontro tra i fratelli Onestini durante il quale Gian Marco ha raccontato a Luca quanto accaduto fuori dalla casa del grande fratello. Subito dopo Soleil fare capitare una lettera di addio a Luca e mette fine alla loro storia. È solo dopo quel momento che inizia la storia tra Marco e Soleil, stando alle dichiarazioni dell'ex fidanzata di Luca. Grazie a tutti.